carissimi fratelli e sorelle e amici cari pace del signore buona giornata a tutti quanti voi 17 dicembre oggi 7 del mattino vogliamo ringraziare il signore perché ci concede di poter leggere e meditare la sua parola e vogliamo farlo partendo da un verso che si trova nel nuovo testamento in particolare nell'epistola ai romani mi riferisco al capitolo 14 al verso 13 dove ispirato dallo spirito santo l'apostolo scrive smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello né a essere per lui un'occasione di caduta è evidente che l'esortazione di paolo è rivolta a quanti vivono in una comunità cristiana e hanno inevitabilmente delle relazioni con altri che hanno sperimentato la stessa fede la stessa esperienza per dire quella di essere nati di nuovo e questo è sicuramente un grande privilegio ed è un'occasione di benedizione reciproca il salmo 133 famosissimo dichiara che bello caro piacevole dilettevole usate voi altri aggettivi che vi piacciono quando i fratelli dimorano insieme perché lì di ordinato la sua benedizione e io spero che il signore veramente in questo nuovo giorno possa renderci coscienti di questa realtà è una è una bella eredità quella che ci è toccata quella di poter condividere con altri la nostra fede nel signore però se è vero che è un privilegio altrettanto vero che è una responsabilità e un impegno perché per riuscire a realizzare l'unità della chiesa l'unità della comunità cristiana è necessario che ognuno di noi si adoperi affinché questo sia possibile e questo naturalmente ci chiama all'onere del dell'amore che dobbiamo ricordarci è l'unico debito che abbiamo gli uni verso gli altri o meglio che dobbiamo avere gli uni verso gli altri e questo amore è ciò che ci permette di poter raggiungere la perfezione dell'unità e quindi di poter godere non solo della benedizione ma anche della manifestazione della gloria di dio che agisce con miracoli potenti straordinari che opera mediante il suo spirito affinché i segni carismi e i doni dello spirito santo si possano manifestare e per questo in modo molto forte l'apostolo invita i credenti della chiesa di roma a non giudicarsi gli uni con gli altri a non essere un un inciampo sulla via del fratello a non essere un'occasione di caduta ma a vivere invece nella comunione fraterna e questo naturalmente ci impone di andare al di là di quelle che sono le nostre vedute i nostri modi di essere al di là delle simpatie al di là dei torti che possiamo aver subito e quindi del desiderio di vendicarci di essi di fare dei dispetti di essere rancorosi amareggiati ci impone di andare al di là e questo perché perché l'amore copre moltitudini di peccati perché l'amore ci spinge a perdonare il nostro fratello o la nostra sorella perché l'amore ci porta a non fare le nostre vendette ma anzi a rialzarci l'uno con l'altro perché l'amore ci spinge a guardare insieme a cristo e a realizzare che poi ognuno di noi ha dei limiti ognuno di noi sbaglia ognuno di noi può essere occasione di ferita per il prossimo e proprio per questo dobbiamo essere pronti a perdonarci vicendevolmente sì perché è facile giudicare è facile vedere la pagliuzza che nell'occhio del fratello dimenticandosi della trave che c'è nel proprio occhio perché è facile condannare gli errori degli altri invece giustificare i propri magari dicendo vabbè ma nel mio caso era diverso io mi sono trovato quasi costretto a fare quello che ho fatto sì il signore ci aiuti perché le nostre carnalità vogliono sempre emergere perché il diavolo si approfitta di esse per distruggere l'opera che dio ha compiuto non solo in noi ma anche intorno a noi e noi non vogliamo essere occasione di inciampo o di scandalo perché il termine quello è per il prossimo vogliamo essere invece un'occasione di crescita di benedizione vogliamo poter vedere il nostro fratello e la nostra sorella che prosperano spiritualmente innanzitutto certo ma se avviene anche materialmente ne siamo felici e non invidiosi e nemmeno gelosi perché questi sentimenti sono come dice paolo ai galati sentimenti carnali e allora fratelli coraggio impegniamoci impegniamoci ad essere di aiuto l'uno per l'altro impegniamoci ad andare oltre quelle che possono essere gli errori del singolo impegniamoci a ricercare la comunione fraterna a conservare il vincolo della pace con l'amore che cristo ha sparso nei nostri cuori mediante lo spirito santo perché ne trarremo benessere spirituale noi e non trarranno anche quelli che sono intorno a noi e allora andare in chiesa per celebrare il nome del signore sarà un motivo di gioia sarà un qualcosa che ci spingerà come davide a dire io mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo nella casa del signore quando invece ci sono antipatie che regnano tutto diventa più difficile e questo limita poi l'opera di dio la benedizione di dio lo spargimento dello spirito santo scegliamo cosa vogliamo vogliamo camminare nella via del signore e quindi essere di aiuto l'uno per l'altro vogliamo ascoltare la voce del maligno e quindi magari giudicarci e farci dei rispetti reciprocamente il signore ci aiuti ad essere saggi perché dobbiamo avere come scopo l'unità della chiesa affinché dio possa operare in mezzo ad essa e possa fare della chiesa uno strumento di salvezza per il mondo perduto che la grazia la pace l'amore l'aiuto e la presenza di dio ci accompagnino ancora oggi dio ci benedica insieme grazie a tutti